ciao ragazzi bentornati sul canale sono vince siamo ancora qui a parlare di lui di dji rc motion 2 ma lo faccio in un altro video perché questo non è lo stesso motion controller 2 che avevo nell'altro video che avete visto ma è un altro che mi sono fatto appunto prestare perché ho avuto il dubbio che il mio in realtà fosse rotto vi spiego tutto rimanete qui e soprattutto questo è un tutorial su come fare i circle proprio con lui con il motion controller 2 anche se avete i goggles v2 qualcuno di voi avrà visto sicuramente il mio video e il mio short che ho pubblicato su questo quando l'ho acquistato e quindi per la prima volta l'ho bindato con il mio avatar e i goggles v2 e questo non andavo praticamente ha avuto problemi sulla rotellina che questo vi confermo non funziona ancora probabilmente con futuri aggiornamenti firmware lo faranno però ad oggi questa rotellina è compatibile solo con goggles 2 goggles integra quindi non con loro vedete questi sono i goggles v2 quindi tutte le prove che ho fatto con il motion controller numero 2 l'ho fatti con questi quindi vi assicuro che la rotellina non va i circoli invece si riescono a fare ed oggi voglio spiegarvi come si fanno visto che vi ho portato un video dove inizialmente vi ho detto che non era possibile fare un po riso quando danilo di quadricottero news che saluto ciao danilo ha fatto il suo video pensavo essendo stato fatto il primo di aprile che fosse un pesce d'aprile però in realtà sono andato a controllare altri youtuber uno cinese che è uscito poi un po dopo il video di danilo e altri video che poi sono usciti in realtà ho visto che gli altri con il motion controller 2 il circolo li riuscivano a fare senza led tracking ed tracking che vi ricordo questo non ha motivo per il quale io ho comprato l'rc motion 2 e quindi era proprio questo quando però ho preso il mio motion controller e ho provato a fare il tutto e non ci sono riuscito ci sono rimasto ovviamente un po male pensando appunto che questa cosa non fosse fattibile mi sbagliavo quindi si può sbagliare ovviamente tutti lo fanno però sbagliavo perché il mio motion controller 2 in realtà aveva dei problemi infatti questo è quello prestato da un altro mio amico e va quindi vi faccio vedere subito come si fa perché ci sono due tre impostazioni da cambiare all'interno del motion controller per riuscire a farli al meglio intanto guardate questa piccola clip dove si vede appunto che con il rc motion 2 sono riuscito a fare qualche circle qui in aperta campagna a fare qualche non male quindi a parte le zanzare che mi stanno massacrando già oggi che siamo comunque al 2 di aprile ma vabbè vedete che è possibile farli allora non è semplicissimo farli bisogna prenderci un pochino la mano ma è fattibile dobbiamo andare però a cambiare un'impostazione almeno per come l'ho fatto io per come sono andato a pilotarlo e per come mi sono trovato bene io se voi andate all'interno dei goggles accesi con il drone i goggles e il motion controller acceso dobbiamo recarci nelle impostazioni proprio del motion controller motion controller che adesso ha delle impostazioni che possiamo andare a cambiare per quanto riguarda proprio la velocità di crociera se noi andiamo a spostare il nostro drone a sinistra o a destra questa velocità può cambiare da un da un minimo di 0,5 metri a seconda a un massimo di 8 metri a secondo io cosa ho fatto ho impostato la velocità di questo movimento laterale al massimo vi ripeto ognuno imposterà la sua velocità fate le vostre prove io mi sono trovato bene con questa velocità di 8 impostata quindi fate tranquillamente le vostre prove cosa dobbiamo andare a fare molto semplice in realtà se noi spostiamo il joystick a sinistra ovviamente cosa succederà vado a prendere il drone se io sposto a destra vedete in questo modo il la levetta del motion controller 2 il drone cosa farà ovviamente farà questo movimento andrà verso destra lo avete visto negli short nel video che avevo pubblicato per consentire al drone di fare il circle mentre noi stiamo facendo questo movimento quindi gli diamo tutto a destra dobbiamo inclinarlo un po' a sinistra in modo che il drone mentre questo va a destra comincia a girare ok e quindi questa combinazione di tasti farà sì che noi riusciamo a fare finalmente finalmente il nostro circle prendeteci la mano non è una cosa che si fa così in maniera facile però dobbiamo farla adesso vedo se riesco a farvi vedere tramite il nostro i ragazzi v2 purtroppo non registrano lo schermo quindi prova infilare un po' la lente dell'obiettivo per farvi vedere qual è l'impostazione che dobbiamo andare a cambiare però molto semplice quindi se voi con la levetta andate da questo lato inclinate dal lato opposto il motion controller uguale invece se voi lo fate dall'altra parte dovete inclinarlo quindi non dallo stesso lato in cui voi state andando con la rotellina ma dall'altro ovviamente non è un movimento accentuato dovete prenderci un po' la mano ecco qua ragazzi vi faccio vedere come fare per cambiare la velocità che vi dicevo prima del movimento laterale basterà andare nel menu andare in impostazioni andare in comandi e controller di movimenti a questo punto ci spostiamo dalla parte in alto vedete su sintonizzazione guadagno ecco qua questo è quello che ci interessa adesso provo a farvi vedere meglio ecco qui allora sia in velocità normale vedete io ho messo questo valore su 8 metri al secondo se voi ci spingete sopra ovviamente potete abbassarlo oppure alzarlo io personalmente per come piloto il drone mi sono trovato molto bene con questo movimento potete anche decidere la massima velocità in verticale in avanti è impostata su 8 metri al secondo come massimo e la velocità massima all'indietro secondo me la potete portare anche sui 3 metri al secondo però quello che interessa a noi è la velocità di volo laterale massima in modalità sport vedete dobbiamo andare a reimpostare quindi anche qui vado a impostarla su 8 che è il massimo questa è la massima velocità in verticale essendo in sport posso portarla anche a 4 vedete invece la massima velocità in avanti in sport è a un massimo di 14 metri al secondo e all'indietro anche qui vediamo quanto può arrivare il massimo è 8 ovviamente io non vi consiglio di superare i 3 per adesso poi voi andate ad impostarvi questi parametri quindi andate a vedere che praticamente in questo modo se voi andate in modalità sport a impostare questi parametri anche in normale la velocità di volo laterale massima aumenterà questo vi permette quindi di andare a fare dei circle fatti comunque molto bene e quindi andate a trovarvi le vostre impostazioni e volate con responsabilità perfetto ragazzi spero che con questo video vi ho chiarito un po dei dubbi che vi avevo fatto venire anche io in prima persona e per questo me ne scuso ma non era dovuto da me era purtroppo questo mio personale motion controller che non è non è stato fortunato insomma l'ho ricevuto e questo movimento vi assicuro non lo fa cosa invece che ho scoperto con un nuovo motion controller l'ho fatto subito quindi veramente adesso sono molto più contento vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine di questo video io vi saluto ci vediamo al prossimo ciao